Per aiutare le aziende ad andare in borsa, oltre al sostegno alle imprese, fondamentale per il presidente della Consob Mario Nava è la tutela del risparmio e della fiducia. Per questo la Consob si raccorderà con le altre autorità, innanzitutto con la Banca d'Italia. Il memorandum 90 standing, che sono molto felice che abbiamo firmato venerdì, secondo me ha una componente pratica chiarissima, che è quella della centralità di questo comitato strategico. Il comitato strategico è uno dei due comitati che legge nel memorandum e questo comitato strategico è previsto di alto livello e dicevo ai comissari che magari potrebbe essere addirittura uno di noi a partecipare al comitato strategico e per me quello è il cambio di passo sostanzialmente, il fatto che mettiamo al centro questo per facilitare lo scambio di informazioni. Grazie a tutti!